Prato si mobilita per raccogliere materiale sanitario, coperte e cibo per l'Ucraina, ma anche per raccogliere i profughi che nei prossimi giorni arriveranno in città. Il numero delle persone che potrebbero giungere in provincia non è ancora stato stabilito. Domani il sindaco Matteo Biffoni, in qualità di presidente Ance Toscana, parteciperà ad un incontro con il ministro Luciano Lamorgese per coordinare e smistare gli arrivi. Intanto oggi ha incontrato una delegazione di ucraini. Noi ci prepariamo per accogliere numeri importanti, purtroppo vorrei dire, di profughi per trovare pronti in fase di accoglienza, sia con la parte dell'ospitalità, quindi letto, mangiare, eccetera, ma anche attivando un supporto psicologico, anche attivando le scuole. In parte attiveremo, questo per quanto riguarda nazionalmente, quindi varia anche per Prato, il sistema dell'accoglienza straordinaria delle prefetture, ma in parte attiveremo come sindaci il nostro sistema d'accoglienza, quello del SAI. In attesa dei primi arrivi, da giorni a Prato si è messa in moto la rete di solidarietà tra gli ucraini stessi, che ospitano parenti a casa, spesso andando a prenderli al confine polacco. La situazione è molto, molto, molto tragica. Allora noi chiediamo posti per il rifugio, un autobus che trasporta le gente e, diciamo, alimentare. Gli ucraini residenti a Prato sono un centinaio, che potrebbero accogliere a loro volta almeno il triplo di persone, che però spesso arrivano senza documenti. Per loro è stata attivata la mail emergenzaucraina.comune.prato.it, a cui fare riferimento per tutte le questioni legali e burocratiche. Nei prossimi giorni partirà anche la raccolta di generi sanitari e alimentari da inviare alla popolazione ucraina, che sarà gestita direttamente dal Comitato Pro Emergenza Città di Prato.